Grazie a tutti. 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 Siamo in un momento particolare in cui siamo per passare tra un linguaggio più comune a noi e addirittura più riconoscibile per cui abbiamo un passaggio di linguaggio davvero importante da segnalare e si possono leggere. Se leggete il testo ci sono alcune parole che sono ancora utilizzate perché sicuramente più a noi note. Grazie a tutti. 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 campane grazie grazie il petit moulin non si spegne la ciribiciacca è bella dei piccoli i piccoli uccelli guarda che bello è proprio vero funziona quella è stato di Leonardo da Vinci pazzesco eh siete all'interno di un mulino di fronte alla macchina volitoria quindi tutta la costruzione è un mulino si parla di un mulino funzionante già nel 1838 doppia ruota un mulino d'acqua ed è stato ricostruito totalmente nel 2009 quando l'architetto Fiorillo arriva in questo luogo mette mano a tutta questa struttura e ha un restauro molto ampio non trova alcuna parte linea di questa macchina volitoria per cui sceglie un'epoca il 1600 e lo ridisegna totalmente ridisegna un macchinario che possa inserirsi in questa struttura e quindi la fa ricostruire totalmente come questo è un'epoca e quindi la macchina che si tratta di un'epoca che si tratta di un'epoca nella macchina superiore ce ne sono due ripietre di macchine una viene chiamata la macchina morta perché sta ferma quella superiore invece è la macchina in movimento i semi cadono nel buco centrale della pietra si inseriscono nelle facce delle due pietre per muovendosi quella superiore va poi a rompere tutti i semi va a rompere i semi perché ci sono delle vie dei canali delle ravvigliature sulle pagine inferre di queste pietre altrimenti farebbero proprio come i cuscinetti rimanerebbero tutti le viglie nei cuscinetti meccanici e quindi non verrebbero macinati invece i semi in questo caso incontrano queste vie vengono girate nel momento in cui si girano vengono poi meccanicamente schiacciati quindi man mano che si va verso l'esterno delle pietre lo spazio tra le due pietre vada a sottigliarsi fino a finire i pezzi diventano sempre in granulometria sempre più piccola fino a finire all'esterno della pietra cadere in quel cacchino e essere quella che poi riconosciamo come farina come macinata non è il mulino bianco ma il mulino giallo perché abbiamo fatto mai una linea gialla di solito nelle cascine si hanno sempre due linee la linea bianca e la linea gialla per quello mulino bianco perché è da grano tenero almeno qua in Lombardia e si fanno in contemporanea perché al mugnaio non so se ci sono dei mugnai tra di voi io scherzo scherzo noi purtroppo tra tutte le cose che abbiamo messo a curriculum c'è anche il corso di mugnaio storico che continuiamo insomma secondo le cose sono delle dritte non a cucchiaio raccolta perché qui più sono a cucchiaio più sono a raccolta più l'acqua è minore il momento viene concentrata l'acqua va dall'albo riempie i cucchiai e poi si spostano verso il basso per esempio in altra montagna ci sono le ruote chiuse a cassettoni proprio e l'acqua corre lungo il tetto della baeta attaccare dall'alto riempie il cassettone e si gira qui da noi invece abbiamo una pale enorme pesantissima tutta di legno con le pale dritte perché? perché vengono colpite a 90 gradi quando arriva l'acqua direttamente quindi non è un mulino a salto di raccolta di acqua l'acqua noi non ne abbiamo un problema e in più veniva storicamente dalla Vettabbia quindi arrivava da Milano raccoglieva tutte le fondi della città di Milano e in uscita da Milano arrivava da noi e passava la qualità dell'acqua per un mulino è ininfluente perché serve solo la portata d'acqua non tanto la qualità adesso invece abbiamo anche una qualità di acqua eccezionale perché arriva dal depuratore di Nosedo per cui il depuratore di Nosedo esce perfettamente un'acqua di una qualità altissima attraversa il palco della Vettabbia che è proprio di fronte all'Avazia diventa quindi acqua errigua poi viene riconcentrata alla fine del palco passa sotto il bypass sotto la strada che immagino abbiate fatto la via Sant'Ariado e arriva finora a noi hanno rifatto poi tutti i bypass per far uscire anche l'acqua dopo che era vale perché prima c'erano solo campi per cui una volta in uscita dal mulino andava finire i campi da questa parte trovate un'altra ruota dentata esatto l'albero che forza il movimento nella prima volta in uso del primo superiore per quando arrivano bonificano tutto il nostro territorio e quindi dicevamo che canalizzano l'acqua in due rogge laterali, una di cui è questa, che è la rogge a Vestaglia, che dicevamo che passa da Milano, raccoglieva tutti i fluidi di Milano e poi usciva. Adesso tra la città e noi c'è questo depuratore che rimane in quella parte della Vestaglia. Questa parte viene dall'alto in un periodo storico particolare, siamo da 4.400 in cui viene costruita tutta parte della Vestaglia e mandano un po' con l'alto in proprenze di 10, 10, 10, 10, 10 e i muri perimetrali. Le bambine non sono sempre più mancanze e tanto. E adesso c'è la propria parte, per la cronaca in monaci non mancano la popola non la fa una frase, ce l'ho mai della Vestaglia, ma è della Vestaglia, ma è della Vestaglia, e tutti loro si mandano le partite tra i monaci. L'acqua entra, entra nel canalino re, lo va a riempire, trova questo canalino chiuso alla fine, per cui cosa fa? Lo riempie e tracima, esce all'esterno e corre lungo quelle ali di campo che sono laterali, non sono perfettamente dritte, sono leggermente inclinate, per cui l'acqua esce da lì e corre lungo i campi. La prima acqua va a riempire il terreno, l'acqua successiva invece corre sopra. Nel momento in cui corre sopra non si ghiaccia, perché se l'acqua è in movimento non si ghiaccia, se non si ghiaccia l'acqua non si ghiacciano neanche le radici. Questi campi che vedete essere molto estesi, anche rispetto alla grandezza della chiesa, servono per erba verde, per dare da mangiare agli animali. Faccio un riassunto, tanta erba, tante mucche, tanto latte, tanto latte, doverlo conservare in forme molto grandi per tempi molto lunghi. Siete nel luogo in cui si dice sia nato il Grana Padano e quindi il consorzio Grana Padano aprirà un piccolo museo in questo angolo proprio per sigillare questo momento, questo casus vetus, che è questo disciplinare di un formaggio che sappiamo poi avere tante declinazioni, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Lodigiano, che è quello che è il marchio più vecchio. Ogni provincia ha delle piccole differenze e dei disciplinari molto precisi e leggermente differenti. Nascono però chiaramente legate a questo tipo di agricoltura, perché marcite non tanto perché il terreno rimane bagnato marcio, ma perché il primo cambio di erba, il primo sfalcio è quello di marzo, marzo marzita e a marzo, che di solito nei campi abbiamo 5-6 cm erba, qui in questi campi, nelle marcite, abbiamo già 60 cm di erba, quindi un'erba già imballabile. Chi ha cavalli o animali molto grandi sa, soprattutto in alcuni periodi storici, che escono dall'inverno molto magri, perché stanno mangiando il fieno, non si davano i cereali, certo come adesso agli animali, perché non c'erano neanche per i cristiani, per cui mangiavano esatto il fieno pieno di muffa e batteri dell'anno precedente. Quindi arrivava a marzo molto molto dimagriti e sofferenti. Dare a questi animali questa erba verde faceva sì che aumentasse la produzione di latte davvero in maniera eccezionale, quindi è legato sempre. Chi è stato a morimondo quest'anno, avetevi tra l'altro l'unica cistercense sopraelevata, quest'anno è inondato di nuovo d'inverno le marcite ed erano meravigliose perché si crea un ambiente particolare, perché acqua di fontanile che esce a 8-9 gradi, per cui quando fuori ce ne sono meno 4 c'è tutta la neve, loro sono perfettamente verdi, con le rane vive e quindi si crea tutta una biodiversità particolare. si separi vari tipi di... ... ... ... Grazie. 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 Ho visto anche i 10 di là. Sì ho già visto. andiamo adesso vi sono ancora dei antichi di come scusa si lo stai facendo grazie 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 grazie